Mirko e Perla di nuovo insieme? La verità sconvolgente nel GF? Nel mondo del reality show, le storie d'amore possono essere tanto intense quanto imprevedibili. Questo è certamente il caso di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, due ex fidanzati che hanno recentemente catturato l'attenzione del pubblico e dei fan di Grande Fratello. La loro storia, che ha attraversato alti e bassi, è diventata un argomento di grande interesse, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi all'interno della casa del Grande Fratello. Mirko e Perla, dopo essersi lasciati durante l'ultima edizione di Temptation Island, si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello, dove hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e riflettere sulla loro relazione passata. Questo riavvicinamento ha scatenato una serie di emozioni e discussioni, sia tra i due protagonisti, sia tra i fan del programma, che hanno seguito con interesse l'evolversi della loro storia. Perla, in particolare, ha avuto momenti di profonda riflessione e realizzazione. Tra le lacrime, ha confessato a Mirko di essere diventata consapevole dei suoi sentimenti per lui, rivelando che il loro amore era stato reale e profondo. Questa confessione ha segnato un momento significativo nella loro relazione, mostrando una maturità emotiva e una comprensione più profonda dei propri sentimenti. Mirko, da parte sua, ha espresso rimpianto per alcune delle sue azioni passate e ha riconosciuto l'importanza che Perla ha avuto nella sua vita. Ha ammesso di aver sempre portato Perla nel cuore e di averla amata sinceramente, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che avevano portato alla loro separazione. La storia di Mirko e Perla è un esempio di come le relazioni possano evolversi e cambiare nel tempo e di come le esperienze vissute possano portare a una maggiore comprensione di sé e degli altri. Il loro percorso all'interno della casa del grande fratello ha offerto loro una seconda possibilità per rivedere e forse riscrivere la loro storia d'amore. I fan del programma, affascinati da questa storia, hanno seguito con passione ogni sviluppo, sperando in un lieto fine per la coppia. L'hashtag Perletti è diventato popolare sui social media, simbolo dell'entusiasmo e del sostegno dei fan per la loro possibile riconciliazione. In conclusione, la storia di Mirko e Perla dimostra come il contesto di un reality show possa diventare un palcoscenico per esplorare e riscoprire relazioni passate, offrendo ai protagonisti e al pubblico l'opportunità di vivere emozioni autentiche e momenti di profonda riflessione personale.